Cinque anni, lei che fa? Si dà la vita privata, si ricambita? E' la risposta che ho sempre dato quando lei mi ha fatto questa domanda, è giusta farla. Noi abbiamo una regola dei due mandati. Questa regola si basa su un principio, che stare in quei palazzi ti cambia. Stare in quei palazzi ti cambia. Stare in quei palazzi ti cambia. E noi abbiamo visto gente restare trent'anni lì dentro e cambiare radicalmente. Piore o peggiore in base a come avremmo lavorato. Lei finisce il mandato e smette di far politica. La regola dei due mandati non è mai stata in discussione. La regola dei due mandati non è mai stata in discussione. Non abbiamo mai messo in discussione la regola dei due mandati. Si fa politica anche quando non si hanno cariche. Si fa politica anche quando non si hanno cariche.